Alessandro Del Gallo sceglie Jacopo D'Agostino nel tandem con Mario Petito per arginare l'alba adriatica prima della sfida del Luca Vallese il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Luciani che è stato il preparatore dei portieri nella società Rosso Verde Majorani carica il sinistro sul quale interviene Lorenzo Petrini la testa di marrone sulla palla scodellata da Piedimonte parte bene l'undici verde oro confermato il 4-3-1-2 dai Zotti con Lorenzo Emili a supporto di Injambè e Miani spunta Fabrizzi sul calcio d'angolo di Mattia Foglia risponde l'alba adriatica che deve difendersi dall'incornata ad opera di Petito ma è una gara sostanzialmente equilibrata lo spunto di Injambè qualche istante prima del gol che consente ai padroni di casa di passare in vantaggio Ricci non benissimo nella circostanza in fase di copertura Lorenzo Emili non può fallire scaraventa in rete per l'1-0 proprio al ridosso dell'intervallo l'alba è in vantaggio grazie al trequartista 21enne ha subito l'occasione di riequilibrare la sfida nel secondo tempo Ariani ipnotizzato da Petrini nella circostanza coinvolge tutto il reparto avanzato la ripartenza al Benz e Injambè per Emili con la punta del piede al Ceopalena provvidenziale prima su di lui e quindi su Miani chance per il raddoppio solo procrastinata e un rapace d'aria di rigore Simone Miani 2-0 e Lucchetto al match del numero 9 il quale grazie a pochi istanti dopo l'acqua e sapone con una conclusione fuori misura chiude in avanti la squadra di Del Gallo che ad ogni modo non ha demeritato vuole il gol Petito dopo il piazzato di Marrone e negli istanti finali anche un po' sfortunata con la traversa di Ricci e la girata di Luca Marrone disinnescata da Lorenzo Petrini altra splendida prestazione per l'estremo difensore vibratiano l'alba driatica non si ferma più sale a quota 38 contro l'acqua e sapone vince 2-0 ecco al di là della sconfitta però ci sono stati poi ovviamente siete stati puniti da queste due occasioni è stata molto cinica la squadra dell'alba driatica sì siamo venuti qui nella terza in classifica abbiamo fatto la partita che volevamo fare molto solidi con una reazione secondo me vehemente che abbiamo avuto rispetto a domenica scorsa e niente peccato perché abbiamo preso colla all'ultimo minuto del primo tempo su una disattenzione diciamo l'unica che abbiamo avuto nel primo tempo e nel secondo tempo ovviamente con la partita che si era messa in quelle condizioni abbiamo prestato un pochettino il fianco ai loro contropiedi però abbiamo avuto le nostre occasioni che purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare complimenti all'alba perché ha fatto la sua partita e sapevamo la loro forza soprattutto lì davanti allora mister forse non so mi sgriderai un po' meno belli rispetto al solito ma molto cinici in questa partita condivido l'analisi io prima della partita ragazzi avevo detto che era una partita che tra virgolette mi faceva paura perché so che il tipo di avversario è l'acqua e sapone e sapevo quindi che andavamo incontro una partita molto ostica molto dura i ragazzi si sono adattati a quello che doveva essere la partita giocare a calcio oggi non era facile però ciò che conta alla fine il risultato il fatto di avere una squadra che sa muoversi in base anche all'avversario in base anche alla giornata questo mi fa sicuramente molto piacere è sinonimo di intelligenza e sagacia tattica perché con altre partite abbiamo fatto le ottime gare oggi non c'è da giocare bene c'è da fare risultati ragazzi stai bravissimi